Il Servizio Civile Universale rappresenta una tappa importante di crescita per i giovani in cui approfondire anche aspetti della possibile professione futura. Nel corso dell'Open Day al Centro Benedetta Corone di Chiavari sono stati illustrati i progetti del Villaggio del Ragazzo, il Sentiero di Arianna, l'Associazione Agorà e il Comune di Rapallo, enti aderenti al programma Res Pubblica. Spazi di socialità giovanile, presso gli informa giovani, gli asili del territorio, gli asilini del territorio, servizi che si rivolgono ad adulti fragili, ad anziani e anche ai migranti. L'impegno richiesto è quello di 25 ore settimanali per un anno da svolgere all'interno dell'ente con retribuzione mensile di 507 euro. Il controvalore del Servizio Civile Volontario non è solo economico. Hanno anche la possibilità all'interno di questi percorsi di potersi formare perché il servizio civile prevede dei percorsi di formazione generale, di formazione specifica che possono anche costituire un arricchimento per il bagaglio professionale dei ragazzi che intendono impegnarsi. Nella fase di passaggio tra il mondo della scuola e quello del lavoro può essere un'opportunità per sondare la propria preparazione e anche l'ambito di azione più consono ai propri studi. Sicuramente è una bella esperienza a livello personale ma anche come acquisizione di competenze e capacità che magari una persona non ha e può sviluppare. Le domande per i progetti di servizio civile volontario possono essere presentate sino al 15 febbraio accedendo alle piattaforme online o rivolgendosi agli uffici in forma giovani di Chiavari, Rapallos e Strilevante. Dove gli operatori sono ovviamente competenti in materia e possono dare tutte le indicazioni ai giovani sia per quanto riguarda le pratiche di iscrizione che i contenuti dei progetti.